Appena finito gli scenari e tra poco esco, anche se è giovedì. Vado a fare un dopo cena con i miei amici dell'università. Anche se tutti domani mattina abbiamo lezioni. Approfitto che sono ancora le 9, uscirò verso le 10 e mezza e vado a lavare i capelli così domani ce l'ho pulito, che ho una giornata bella full. E poi da oggi voglio iniziare questa terapia, tipo con delle fialette per i capelli anti-gatuta, per i capelli fini, per farli crescere un po' più forti. Ho tolto un po' di umidità col suono e adesso sto applicando la fialetta. Prima la testo e poi se mi ci trovo bene ve ne parlo bene. Cioè già con un solo lavaggio mi sembrano molto più corposi. Bene bene, vi aggiornerò. Io comunque parto con l'intenzione di non fare tardi stasera, ma ci scommetto quello che vi pare, che dormirò circa un'ora e domani mattina sarò così all'università. Ma attanto, stiamo tutti sulla stessa barca, quindi se dormirò in piedi io, dormiremo in piedi tutti. Sarà una serata tranquilla, quindi ho intenzione di vestirmi molto semplice e abbastanza caldina, dato che è iniziato a fare freddo. Invece un outfit un po' più bello me lo riservo per domani, che vado prima a cena a fare i confetti e poi andiamo a ballare insieme a tutti i nostri amici del liceo. Poi esco pure tranquilla, perché oggi ho seguito tutte le lezioni, ho studiato tutto il giorno e mi sono messa in paro con tutto il programma che avevo aperto, quindi top. Con lo spoiler mi è arrivato un mega paccore da Shane. Aveva un bellissimo taglio, non l'ho preso delle cose pazzesche. La mia fantasia è poca, quindi questi pantaloni che avete stravisto e stravisto e stravisto. Con qualcosa sopra, ma non lo so. Per me questi pantaloni sono diventati tipo il mio secondo strato di pelle. leggendo solo più questi di pita e aggiungo anche questo, che secondo me ci sta carino e sembra un po' rock. Però ci sta, vado.